Musica Potente appare ragazzi, qua Max, lo GioMegad, oggi sono Assolo e sono qui a presentarvi il mio nuovo video E ragazzi, questo qua è il video, è quel video Io dico solo che è quel video perché infatti oggi sono qui a presentarvi il pink pale di quale giocatore? Ragazzi ve lo devo dire, oggi sono qui a presentarvi il pink pale di Cristiano Ronaldo Team of the Year Cristiano Ronaldo Team of the Year ragazzi, valutato 98, credo che sia il mio pink pale innanzitutto più costoso Se non il mio più importante perché ragazzi voi non avete idea di quanto io sia atteso per questo pink pale Molto più del Wager Match E non so il motivo però, ovviamente a farci compagnia ci sarà la grandissima pala che ci ha aiutato a vincere appunto nel Wager Match E ragazzi, un'altra cosa, vabbè, ovviamente che volevo dirvelo innanzitutto Innanzitutto vi volevo dire di passare da prima come stai, se siete interessati a comprare che il FIFA Secondariamente ragazzi, questo qua è il mio pink pale più importante Perché se io riuscirò a vincerlo potrò finalmente vendere Cristiano Ronaldo e con i soldi ottenuti farò un'altra marea di pink pale Se perderò inizieranno ad esserci dei seri problemi Quindi, detto questo, spero di aver detto tutto, vi chiederei gentilmente di lasciare anche adesso un commento di sostegno Ho scritto una frase tatticissima tipo, dai eh, alla Zemano Style E quindi, boh, basta, se potete fatelo, mi raccomando Poi oggi ragazzi c'è anche da sperare in una cosa Ebbene sì, devo sperare vivamente di trovare un avversario scarserrimo Perché vi prego, oggi veramente non voglio perderlo Poi dovevo studiare solamente, io c'ho l'ansia da due giorni, cago blu addirittura E lo spin interogeno è altissimo E ho detto, no, devo smettere di studiare, devo fare le pink pale Infatti, cioè, sono abbastanza easy, sono vestito easy-isamente E in un modo abbastanza easy E quindi, ho proprio un'idea venuta al momento Quindi io non ho più cose da dire Io direi di twittare su Facebook Abbiamo twittato su Facebook Questa qua è la squadra Iniziano già ad arrivare gli inviti Oh mio Dio Io farei tra tre inviti Eccolo 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 L'abbiamo accettato Abbiamo accettato Scriviamo stop Razer Wolf Sarà lo sfidante Sarà il mio sfidante Per il pink pale Di Cristiano Ronaldo Team of Day Devo già andare in bagno Mi sto cacando sotto, ragazzi Madonna Wow, Angie E adesso noi lo aspettiamo 10 secondi 15 secondi Latenza 2 Ciò non va bene Però adesso noi dobbiamo togliere qua E andiamo a vedergli la squadra E andiamo a vedergli la squadra Di questo pink pale Di Cristiano Ronaldo Porca miseria Team of the year C'ha un attacco Che è di un baggato Che mi spaventa 4-1-2-1-2 Porca vacca Porca vacca Coggiuda ragazzi Ho mal di pancia Ho mal di pancia Non posso perdere Il mio pink pale è più importante Stiamo partendo Sto sudando stratanto Prendo un attimo i fazzoletti Perché Noi abbiamo i fazzoletti Oh I miei giocatori iniziano a non rispondere ai comandi 1-0-2 No Non mi era dato il control Porca miseria Già 1-0 No No Non mi funziona il controller Porca miseria Porca miseria Ma poi successe qualcosa di emozionante PC mod Prendi la Non ci vedo Non è più esiste Esiste Sì Già 1-1 Madonna sto spendo troppo Ho vinto l'unico L'abbia ripreso Va bene Va bene Meno male Meno male Madonna 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 Sì Yes 2-1 Oddio Scusate Dura è la televisione 2-1 2-1 D'agli Madonna Oddio Gliel'ho passata io Dimmi che non è espulsione Ti prego Non lo so nemmeno se è espulsione No rigore no Rigore no Rigore no Rigore Ma che imbecille Diofanto mi butto sempre a destra Mi butto sempre a destra L'unica volta che devo buttarmi per davvero mi butto a sinistra Bella Ronny Segna Namas Porca Giuda Cosa ha preso Che cosa ha preso Madonna mia Finito primo tempo 2-2 Porca vacca Sto male Madonna mia Non ce la posso fare Io non arrivo a fine partita 2-2 Dai schiaccia X Ah schiaccia quello che vuoi Schiaccia 7 tiri io 5 importa io 5 tiri lui 3 importa lui Marcelo cosa prende Marcelo cosa vede Dai No No E rigore Non è rigore ovviamente Bello Fai De Bruin De Bruin De Bruin Madonna Perché non entra Marcelo Ronny C'è Ronny C'è Ronny Tutti questi Ronny Madonna come l'hai visto Esus 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 E c'è il gol 3-2 Palla sulla traversa Madonna c'è lo rimasto malissimo 3-2 3-2 3-2 Madonna dai Così Così No E sfruttiamolo questo Questo è da sfruttare Questo è da sfruttare Questo è da sfruttare Questo è da sfruttare Non è vero Non è da sfruttare Texas Rangers No L'ho chiamato Orco 2 No appunto No l'ultimo salto No 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 Questa non deve entrare Si entra sono fregato Si No Si Arbitro La prego Faccia finire Madonna Arbitro la scongiuro Arbitro Arbitro La prego La prego Questa supplicia Me la faccia finire Dai lo prego E la vieni Fatti bene No Si Yes Si E abbiamo vinto E abbiamo vinto E abbiamo vinto E abbiamo vinto Pink pale di Cristiano Ronaldo Team of the year vinto Yes Spartani Yes Aspettate un attimo Senza doppi sensi Senza doppi sensi Yes E abbiamo vinto Questo pink pale Sudato Beh Madonna ragazzi Tesissimo Per davano una zia Zero Ma poi la PC mod Ci ha assistito Yes 12 tiri io 9 importa io 7 tiri lui 4 importa lui Yes Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Si 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 E mi è uscito dal gioco Come ogni volta Comunque ragazzi Ce l'abbiamo fatta Sono stra contento Ma proprio alla grande Anche un po' meno Perché adesso devo andare a studiare Comunque dettagli Comunque Spero che in assoluto Questa partita Vi sia piaciuta Ma spero che anche L'idea solo Di avere pink palato CR7 Team of the year Vi sia piaciuta Alla grande Infatti se potete Vi esordo Lasciare un bel mi piace Ragazzi Per favore Anzi fatemi sapere Chi l'ha già lasciato Che come l'altra volta Ho visto che un sacco di gente Lasciava già il mi piace Prima Di guardare addirittura Il video Quindi ragazzi Vi ringrazio un sacco Fatemi sapere Se l'avete fatta anche questa volta E fatemi sapere Se l'avete anche Solo mi piaciato Oppure L'avete anche aggiunto A preferiti Come anche condiviso Quindi E' un po' Un messaggio subliminale Condividete Aggiungete preferiti Ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Quindi Vi è solito Lasciare un bel mi piace Un bel commento Fatemi sapere Adesso che giocatori Pink palare Perché appunto Potrò finalmente vendere CR7 Team of the year Quindi fatemi sapere Che giocatori Vorresti che io Pink palassi E magari non scrivetemi Direttamente Ibrahimovic Team of the year Ecco Mi sono bruciato Iniziamo da Da quelli bassi Ecco di prezzo E quindi detto questo Vi saluto Vi dico potente A palazzi Senti al prossimo video Bolla